se vi ricordate quando abbiamo visto questo abbiamo detto che aveva una memoria da 8 giga ecco è arrivato il momento di cambiare l'abbiamo cambiata ne abbiamo utilizzato lasciando stare il casino che c'è qui è una da 128 marca cavallo yukun una sicuramente delle migliori andiamo ad avviare cosa stiamo facendo pendrive con un boot di una versione di ubuntu l'ubuntu molto light molto leggera perché come possiamo vedere da qui andiamo su install l'ubuntu andremo a virtualizzare home assistant os su virtualbox su questa macchina quindi intanto installiamo l'ubuntu poi andiamo a controllare da bios se è attiva la virtualizzazione in teoria dovrebbe esserlo di default poi andiamo successivamente a controllarla e vi evito tutta la parte dell'installazione di l'ubuntu e quant'altro per il momento ci concentriamo su questo e basta quindi ci aggiorniamo quando l'installazione è finita andiamo subito a vedere come installare configurare su ambiente linux in questo caso l'ubuntu home assistant os lo virtualizziamo con virtualbox per iniziare quello che dobbiamo fare è semplice dal computer stesso quindi possiamo andare su un browser in nostro caso firefox e muoverci all'interno del sito ufficiale di home assistant cosa dobbiamo andare a fare all'interno di home assistant nella sezione installation possiamo andare a vedere le diverse tipologie di installazione andiamo su quella relativa a windows e andiamo a scaricare in alto il primo che ci apparirà praticamente l'immagine di sistema di home assistant os per virtualbox per chi non lo sapesse virtualbox è un programma open source che ci permette appunto di virtualizzare diverse tipologie di sistemi operativi e va bene sia per ambiente linux che per ambiente apple che anche per ambiente windows il file che stiamo andando a scaricare quindi questa immagine è un file zippato ovviamente ci vuole un po di tempo per poterlo scaricare ovviamente dipende anche quella dalla vostra connessione una volta fatto quello che dobbiamo fare è estrarre il file andiamo a estrarlo all'interno di un percorso a noi noto non è importante dove lo andiamo a estrarre quindi lo possiamo andare a estrarre all'interno di una cartella che noi stessi abbiamo creato l'importante che però ci ricordiamo appunto dove andiamo a metterlo perché sarà importantissimo andarla a recuperare nella fase di configurazione di home assistant una volta che il file sarà stato estratto andiamo sulla barra delle applicazioni strumenti di sistema oracle vm virtual machine all'apertura di virtualbox quello che dobbiamo fare sarà andare su strumenti e andare ad aggiungere il disco virtuale quello che vi sto facendo vedere io ovviamente già l'ho fatto e giusto vi sto spiegando come effettuare questo lavoro quindi andiamo su aggiungi andiamo a selezionare il disco sarà possibile una volta selezionato una volta che apparirà andare a modificarne i valori come per esempio la dimensione da 32 gigabyte siamo passati a 64 giusto per stare un pochettino più larghi non stare stretti magari nel lungo periodo in questo modo non ce lo fa modificare perché è già in avvio sulla mia macchina virtuale però non vi preoccupate va bene comunque è semplicemente una guida andiamo a vedere cosa dobbiamo fare a questo punto andiamo a creare la nuova macchina virtuale gli andiamo a dare un nome home assistant OS o home assistant come volete fare fate andiamo a selezionare il percorso quindi la cartella su cui sarà installato anche qua non è importante l'immagine ISO non selezionato mi raccomando tipo linux andiamo a scegliere altro linux a 64 bit è importante passo successivo sarà dare la giusta memoria andiamo a fornire non 1024 megabyte ma 2048 2 giga di ram e visto che il nostro computer è un computer quad core ne andiamo a fornire due core minimo per poter lavorare sono due abilitiamo è importantissimo ed è qui adesso in disco fisso virtuale che dobbiamo andare a selezionare quello esistente cioè quello che abbiamo creato poco fa vediamo poi il riepilogo del nostro sistema e facciamo su fine il nostro sistema operativo non è ancora pronto selezioniamo andiamo su impostazioni dobbiamo modificare due cose le prime in realtà non sono molto essenziali però lo facciamo andiamo sul sistema e dopo che ci siamo mossi sulla scheda sistema andiamo a eliminare il floppy e l'ottico cioè lettore dvd virtualizzati non ci servono a niente lasciamo solo il disco fisso spostiamoci a questo punto su rete e andiamo a modificare la connessa connessa va impostato come scheda con bridge e il nome compare il nome della nostra scheda di rete è importante perché così la macchina virtuale sarà come un computer fisico veramente collegato alla nostra rete domestica non ci serve altro in questo momento se proprio vogliamo andiamo a controllare per vedere se effettivamente il disco lo ha preso qualche impostazione generale giusto per verificare la funzionalità ma in realtà già va bene così a noi da un problema ma è relativo a tutt'altro voi non dovrebbe apparire fregatevene fatto questo andiamo su ok e proseguiamo quindi con il primo avvio se però vogliamo la nostra macchina sempre avviata quando il nostro computer si spegnerà questa è la procedura da fare parte destra del mouse crea scorciatoria sul desktop di che ci richiamo proprio sul desktop selezioniamo il nostro collegamento parte destra del mouse apri con fatherpad quello che si aprirà per molti sarà incomprensibile ma non vi preoccupate quello che non interessa è la riga che stiamo andando a evidenziare è importantissima l'andiamo a copiare perché troppo l'andremo a incollare torniamo sulla barra delle applicazioni quindi andiamo questa volta su preferenze impostazioni di lx qt e andiamo su impostazioni della sessione qui troviamo la scheda avvio automatico apriamola e andiamo su aggiungi diamo il nome al nostro eseguibile per l'avvio home assistant e digitiamo su comando quello che poco fa abbiamo copiato quindi andiamo su ok io non l'ho fatto perché ve lo sto facendo vedere qui già l'ho creato quindi che succede quando il computer si spegne e lo vado ad accendere fisicamente dopo che si sarà caricato il sistema operativo si avvierà anche home assistant quindi torniamo sul nostro home assistant e lo possiamo avviare non ce ne frega niente di quello che abbiamo creato ora andiamo a eseguire quello creato da noi la prima cosa che apparirà e che salterà all'occhio sarà l'url per poterci collegare da browser al nostro home assistant con questo concludiamo il video di oggi noi ci vediamo ormai l'anno prossimo e l'ultimo video dell'anno quindi tanti auguri di buon anno e a presto ciao ciao